buongiorno rieccomi con un nuovo video sempre morning routine ma è un po che non ve lo faccio e quindi vorrei mostrarvi la mia morning routine del lunedì solitamente e di che cosa faccio al rientro del weekend che lo passo sempre diciamo in zona dei miei che non abitano più vicinissimi a me e quindi il fine settimana siamo spesso via quindi a rientro alla mattina presto perché rientriamo ci alziamo comunque alle 6 se un quarto del mattino per rientrare a casa e e quindi poi ho un po di cosine da fare mi preparo un ottimo cappuccino con la mia macchinetta che col mio latte vegetale di soia e non può mai mancare per iniziare appunto la giornata e poi lo vado anche a decorare un po nel senso che oltre allo zucchero metto anche un po il cacao a quindi mi piace essere un po golosa la mattina ecco che vado a versare il cacao ora vado a prepararmi il cornetto che solitamente mangio quello senza lattosio della misura con un po di nocciolata quindi vado a farcirlo e mentre quando preparo dei dolci torte ciambelle ovviamente poi non non mangio questi ma alterno dipende un po dalle giornate quando preparo crostate comunque torte fatte in casa ovviamente mangiamo quelle quindi vado a farcirlo e poi mi godo la mia colazione sul divano perché io amo sedermi sul divano accanto alla mia cagnolina mentre mi rilasso e mi prendo i miei minuti di tempo per mangiare con calma ora mi dedico alla lavastoviglie che avevo precedentemente fatto partire prima di andare via al weekend e quindi ora la vado a svuotare perché i piatti ovviamente sono asciutti e così è pronta per essere ricaricata dopo la colazione e per il pranzo è una cosa che amo fare alla mattina quindi appena mi sveglio così poi ho tutto ordinato e non ci devo più pensare insomma poi a breve penso che farò anche una pulizia interna devo controllare il sale perché non ci guardo sempre ma avendo fatto un po più di più lavastoviglie del solito in questa ultima settimana ha bisogno di una pulitina insomma anche il filtro e controllarla un po quindi adesso asciugo giusto la i pezzi della freggetrice ad aria che lavo in lavastoviglie per agevolarmi così è pronta per quando la utilizzo per la cena con cui mi trovo benissimo e faccio un sacco di ricette carne pesce la strada oro non ne posso più fare a meno se vogliamo quindi ora sistema un po tutte le così nelle tazze perché avevo fatto anche delle tisane e quelle per la colazione metto tutto al suo posto e poi ho anche altre cose che avevo sempre lavato a mano che sono ancora sullo sgocciolatoio del lavello e sul carrellino che ovviamente anche quelle andrò a sistemare al suo posto ora mi dedico alla freggetrice la sistemo e vado anche a rimettere a posto le ultime cosine nel cassetto tra cui taglieri faccio due coccole alla mia cucciolona che è un po assonnata anche lei stamattina e ha bisogno un po di attenzioni ora mi dedico a preparare il pranzo in realtà questo è per Chloe non per noi mi metto avanti perché oggi non ho più il suo cibo disponibile per il pranzo quindi lo preparerò fresco e andrò a preparare pesce, verdure eccetera ora vado a svuotare la spesa perché il weekend siamo abituati a fare spesa in zona dai miei e poi portiamo tutto in qua ho acquistato un po di cosine tra cui tocchetti di mais, il brodo vegetale, questa volta biologico voglio provarlo nuovo che non ho mai testato, il latte vegetale e anche le barrette gran cereale con il cocco che sono stra buone poi ho preso cose da decorare la torta di compleanno in previsione del mio compleanno voglio fare un po di decorazioni ho preso dei fiorellini e le candeline e poi cosa ho preso aggiusto i pirottini per fare i muffin o cupcake ho preso le gommine per pulire le sedie quelle magiche e per pulire anche le pareti questo scuola posate dai china che utilizzerò nel sottolavello poi ho preso queste cartine decorative sempre da mettere nella torta un portatorta in carta da trasportare perché devo preparare per un evento una torta e la sua base ovviamente poi ho comprato un po' di biscottini, quelli della misura senza latte al cacao e i pandistelle per il mio compagno dentifricio ho preso anche un colluttorio perché ne ho bisogno e questi sacchettini profumati per gli armadi per assorbire l'umidità un altro di latte ho preso anche un acetone perché lo stavo terminando e una bella scorta di coca cola in lattina mini per me per quando mangio la pizza ora vado a togliere tutti i panni asciutti dallo stendino e li vado a riporre nella bacinella che poi dopo porterò di là e li andrò a piegare con calma è una cosa che vado a fare perché poi ho altre lavatrici lunedì e ovviamente mi devo mettere avanti per poi stendere le altre cose non so se avete notato la mia giacchetta super calda ma è tornato inverno oggi c'è un tempo veramente bruttissimo diluvia e non si capisce più che stagione siamo ma speriamo torni il sole e caldo perché non se ne può più di questa umidità veramente non si capisce più che stagione non si capisce più che stagione ecco la nuova ciotola che ho preso su temo per chloe così non si ingozza più e fa un giochino simpatico ora mi dedico al pranzo preparo la carbonara oggi non ho gli spaghetti apertura ma questi vanno bene lo stesso per oggi e oggi non ho utilizzato la pancetta cubetti già pronta ma quella fresca e guanciale quindi sono andata poi a tagliarlo manualmente quindi preparo il pranzo che ormai ora arriva a casa appunto il mio compagno e mangiamo insieme le mie uova parmigiano chloe è già uscita per la passeggiata adesso vado a sistemare frutta e verdura che abbiamo comprato a chilometro zero dal contadino è un po che ci siamo approcciati a questa cosa sono molto contenta ad averlo fatto anche perché è tutto più buono ho preso asparagi da fare risotto un po di frutta verdura tra cui zucchine e carote che utilizziamo molto spesso queste da fare anche le esse sono ottime poi ho preso anche qualche mela di due tipologie diverse una più croccante e l'altra verde poi pomodorini immancabili sono molto molto belli abbiamo preso anche un po di patate fresche oltre a quelle che facciamo a volte surgelate ci piace anche fare queste infriggitrici ad aria e poi ho preso un peperone da fare nella pasta a pranzo e non potevano mancare le fragole perché inizia il periodo io le adoro le mangerò ragazze spero che questa morning routine vi sia piaciuta e che vi abbia tenuto un po di compagnia se vi va lasciate un bel like iscrivetevi un bacione e a presto grazie grazie